Tranquilli, sapevano come muoversi e come gestire la situazione per quasi un'ora. Sono senza dubbio professionisti, rapinatori entrati in azione a ridosso dell'ora di pranzo nella filiale di Via Mantova Montechiari della Banca Popolare di Sondrio. Organizzati ed abituati a mettere a segno colpi come questi, secondo gli investigatori, tanto che sono rimasti a lungo all'interno della banca, chiudendo nell'ufficio del direttore una decina di persone, fino a quando la cassaforte temporizzata non si è aperta e gli ha permesso di mettere le mani su 42.000 euro in contanti. Erano da poco passate le 11.30 quando i tre hanno avarcato la soglia dello sportello. Il primo, a volto scoperto, è entrato nella banca e ha poi tenuto aperto agli altri due che si sono presentati travisati da sciarpa e cappellino davanti ai cassieri. Senza alzare la voce, senza usare violenza o minacce, hanno accompagnato i dipendenti e i clienti nell'ufficio del direttore, chiudendoli nello stanzino e poi hanno atteso il tempo necessario all'apertura dell'armadio blindato. Nel frattempo uno dei rapinatori, a volto scoperto, è rimasto nell'atrio e dare inchiuso nell'ufficio i clienti che via via sono entrati in banca. Solo quando hanno messo le mani sui contanti i rapinatori sono fuggiti. Nella zona sono molte le telecamere di sicurezza e i carabinieri stanno vagliando le immagini dalle diverse angolazioni per raccogliere elementi utili ad identificare i componenti della banda.